A preso ufficialmente il via giovedì 25 agosto la 64esima edizione del Polifonico, la manifestazione che si concluderà domenica 28 agosto. Al concorso come consueto parteciperanno alcuni dei migliori cori al mondo, 10 i gruppi in concorso provenienti da 8 nazioni diverse. I gruppi saranno valutati da giurie costituite da musicisti e maestri di coro del panorama mondiale. Ospiti della cerimonia inaugurale nella chiesa della Badia ad Arezzo, Cosmic Voice, il gruppo che ha animato la festa di chiusura dei giochi olimpici di Rio e che per l'occasione a retina ha intonato il tema musicale della prossima Olimpiade a Tokyo. Si svolgerà invece venerdì 26 agosto nella scalinata della Cattedrale il Festival Internazionale Corale di Canto Popolare. Il 27 agosto sarà invece il turno del Gran Premio Città di Arezzo alle 15 al Teatro Petrarca.